Cosa sta facendo Regione del Veneto nell'ambito della Digital Transformation? La Regione del Veneto in questo momento sta facendo un grosso salto del passaggio e guardando verso il mondo cloud. Recentemente 85 mila dipendenti della Regione Veneto compresa anche la sanità sono migrati nel cloud nell'ambito della posta elettronica e tutti quelli prodotti correlati all'interno di quello che è la G Suite di Google. In quest'ambito chiaramente stiamo lavorando molto anche con l'utilizzo di questi strumenti per favorire anche lo smart working con il progetto Vela, cercando anche di far sì, l'utilizzo anche attraverso altre ulteriori progettazioni, vedi ad esempio il bando Innovation Lab nel quale noi chiederemo questi luoghi di spazi aperti in cui anche favorire l'utilizzo di questo spazio per i dipendenti della pubblica amministrazione che utilizzano lo strumento dello smart working. In questo poi sempre nell'ambito della Digital Transformation legata al territorio stiamo portando avanti un percorso di convergenza con tutte le pubbliche amministrazioni. Stiamo lavorando molto per far sì che questi progetti non sia solamente la Regione del Veneto che li porta avanti ma ci sia un grosso lavoro con le pubbliche amministrazioni locali che si aggregano tra di loro per far sì di portare avanti nel territorio i nuovi servizi digitali rivolsi al cittadino. La Regione del Veneto sta anche mettendo a disposizione delle piattaforme abilitanti che verranno utilizzate da queste aggregazioni territoriali per erogare i servizi direttamente al cittadino. Servizi legati ovviamente alla mobilità, legati ai servizi anagrafica o comunque servizi di digitalizzazione che pagamenti elettronici, autenticazione eccetera.